Stronza! Ma la ragazzina sta come stanno tutti i figli separati, eh? Quello che importa è l'amore, no? E comunque i problemi miei non è che si risolvono attorno alla scrivania. Apri! Tante volte non abbiamo le parole. Il gioco è il linguaggio, i papazzetti sono le parole. Mi sordi servono. Ho un psicologo. Ma che stai pensando in mezzo da qui e racconto i fatti miei? Solo se vuole. Non voglio. E allora perché sei seduta? Io sono il padre, è il barbara, è il sangue mio, è il mio cazzo di... Populato, aspetta! Aspetta! Era il dottore mio! E se ti sei messo in mezzo! Tu devi trovare la forza. Sono una delinquente. Il modo di superare ogni ostacolo. Fortunato. Non è stata la forza. Noi dopo. A presto! Noi dopo. In scusse. I am. Grazie a tutti